Gravi disagi provocati dal maltempo in tutto il Padovano. Una terribile notizia arriva da Monselice, quando intorno alle 10.20 di oggi, martedì 22 novembre, un albero di grandi dimensioni è crollato su un'auto. L'automobilista 27enne è rimasto gravemente ferito. La caduta dell'albero ha infatti provocato lo schiacciamento delle gambe del conducente. I vigili del fuoco sono intervenuti d'urgenza in via Facchine, da esse da Padova, con l'autogru, liberando l'uomo rimasto incastrato nell'abitacolo dell'auto. Il giovane è stato preso in cura dal personale sanitario del SUEM, che l'ha stabilizzato e trasferito in codice rosso all'ospedale di Schiavonia. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.